Tagliate, sventrate, smontate. Sono state ritrovate così alcune delle autovetture rubate ed entrate a far parte del giro di affari di due uomini di Minervino-Murge, accusati di furto e riciclaggio. I due sono stati colti in flagranza di reato dai carabinieri che si sono avvicinati alla zona nelle campagne di Minervino dopo aver percepito rumori sospetti. In quel momento hanno visto i due intenti nello smontaggio di un'autovettura risultata poi rubata nella stessa notte a Trani. L'immediato intervento ha permesso di bloccare entrambi gli uomini e sottoporre a sequestro numerosi arnesi da scasso, due dispositivi utilizzati per l'inibizione delle onde radio trasmesse dal GPS, due telefoni cellulari e una radiolina, verosimilmente utilizzata dai due per le comunicazioni con eventuali complici. Al termine degli accertamenti, due soggetti sono stati arrestati con l'accusa di riciclaggio. Il GIP ha poi convalidato l'arresto disponendo per loro gli arresti domiciliari.